Take it easy, take it slow We can do it just like before So take it easy, take it easy Ragazzi bentornati in questo prossimo video Io sono Cecchinato e oggi siamo qui per il primissimo video news della stagione 4 Capitolo 3 Fortnite Infatti sicuramente avrete anche già visto che stamattina sono stato in live Abbiamo visto tutti i leaks, novità assurde Però oggi ci concentreremo soprattutto su una novità Infatti ritorna l'evento, riavvia un amico Quindi praticamente in teoria un giocatore, un vostro amico che non gioca da più di 30 giorni Dovrete giocare con lui tot missioni, quindi kill, raggiungi determinate top, fai tot partite Per avere ragazzi un super bundle esclusivo gratis di una nuova versione della Renegade Rider Prima di iniziare like, iscrizione mi raccomando per false E detto questo condividi anche il video e incominciamo subito Vi dico già da subito che attualmente non sappiamo ancora la data di arrivo di questo bundle Sicuramente verrà annunciato a breve Però sappiamo che come vi ho già detto nel link Sarà un bundle, riavvia un vostro compagno Quindi riavvia un amico, insomma chiamatelo un po' come vi pare Che è un evento super esclusivo Perché poi di solito questo bundle non tornerà più Quindi mi raccomando completate sempre queste determinate challenge Perché poi in teoria queste sfide non torneranno più E quindi non saranno più ottenibili ovviamente tutte le ricompense Ma tranquilli, avrete tantissimo tempo per ottenerlo Vi faccio vedere, iniziamo con la skin Innanzitutto questa ragazzi è la skin Una nuova versione della Renegade Rider Come possiamo vedere Che non è male Ovviamente tutti questi cosmetici sono gratis Completando quelle varie sfide E questa è la skin Ci sta Una versione un po' strana della Renegade Rider Però attenzione Quella vediamo in tema, possiamo dire, sondaggio Quindi disegnata, tra virgolette Quindi dobbiamo aspettare ancora di vederla nei file di gioco proprio Passiamo però poi ad un altro oggetto Delta Plano ragazzi Infuocato della Renegade Rider Bellissimo questo Tra le altre cose c'è l'originale Mi sembra che c'è la copia originale Che è quella diciamo Che era stata data nel Pass Battaglia numero 3 Del capitolo 1 E questo invece è una versione infuocata Ed è bellissimo ragazzi Questo sarà ovviamente un altro oggetto gratis Poi gli altri due Wrap ed Emoticon Anche queste insomma inerenti sempre al fuoco Ragazzi molto molto carine E adesso vediamo però l'ultima ricompensa Tenetevi forte ragazzi Tenetevi proprio forte Perché ragazzi è tornato Possiamo dire il piccone Uno dei picconi più rari di Fortnite Chiaramente non lo potremmo ottenere Quello ovviamente versione standard Della Renegade Rider Ma possiamo dire di avere una copia Praticamente perfetta Di quel piccone Tutto infuocato Eccolo qua Tutto questo bundle ragazzi Che vi ho appena fatto vedere Sembra strano Ma sì Sarà gratis tramite l'evento Riavvia un compagno Che dire Bundle proprio bellissimo Il piccone Proprio quello G Ovviamente versione infuocato Che addirittura a me piace di più Pure di quello standard E niente ragazzi Questo bundle Non sappiamo ancora quando arriverà Ma sappiamo che Sarà parte di questo nuovo evento Fatemi sapere ovviamente Che voto gli date Cosa ne pensate Se siete contenti Di questo mega ritorno E detto questo Noi ci vediamo domani Ovviamente con altre news Dedicate alla nuova stagione di Fortnite Mi raccomando Like Iscrizione Con campanellina ragazzi Bella Ciao 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 Ciao